Pulizie digitali estive, è il momento di cancellare tutto. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e la puntata oggi del nostro podcast quotidiano è dedicata a una new news che è un po' primaverile, ovvero le pulizie, ma non di primavera, per me le pulizie estive sono quelle soprattutto digitali. Eh sì, perché a differenza di quello che facciamo con gli armadi, per chi lo fa, il cambio di stagione e quindi le pulizie primaverili, insomma c'è tanto da fare per quanto riguarda il digitale. Settimana scorsa per me è stata importante perché mi ero dato un solo compito prima dell'estate, anzi due, il rifacimento dello studio, ma il primo compito era il primo luglio cancellare il mio gruppo Telegram. Ora vi spiego perché l'ho fatto, i tre motivi per cui dovete fare anche voi pulizie digitali e perché in realtà darà grandi benefici. Il primo motivo è perché abbiamo spam di contatti, di messaggi e anche di canali nella nostra strategia, non possiamo gestire tutti i social né tutti gli account, non possiamo essere dei supereroi da tutte le parti. Bisogna spesso decidere dove cancellarsi, dove non essere presenti per far sì che dove lo siamo, siamo veramente dei campioni. Il secondo motivo è perché abbiamo poco tempo, troppo prezioso per poterlo diluire in mille microgestioni, dividere le situazioni, cancellare gli spam, tirar fuori le cose giuste che ci interessano e quindi cancellare vuol dire dare priorità alle cose veramente importanti. L'ultimo motivo è perché c'è sempre qualcosa da cancellare, mentre pensiamo di essere super ottimizzati, super calibrati, nella galleria del vento del digitale essere super pronti, c'è un alettone che ci fa perdere quota. Non so perché è venuta questa metafora con la Formula 1, ma detto questo c'è sempre qualcosa da cancellare, c'è sempre qualcosa da pulire, c'è sempre qualcosa da lasciare e da tagliare. In questo giro ho cancellato il mio gruppo Telegram perché era diventato rindondante con il gruppo della community, quella Patreon, quella degli iscritti alla community che mi supporta. È lo stesso canale Telegram, quindi avevo un canale, un gruppo e un altro gruppo e quindi ho detto questa cosa alla community, se vuoi seguirmi gratis, come dico spesso qua anche all'interno del nostro caffettino podcast, apri Telegram e vai su Mario Moroni Canale. Se invece vuoi supportarmi, parlare con me tutti i giorni e mi consigli e far parte di un gruppo di pazzi scatenati, di guerrieri, bene vai su Patreon, patreon.com slash Mario Moroni oppure caffettinoclub.it, ti puoi iscrivere e ci vediamo di là e quindi chiaramente starò a disposizione. Viva le pulizie estive, viva le risposte umane senza bot, senza diavolerie varie, ma ogni tanto bisogna fare le cose fatte per bene, bisogna cominciare a tagliare e dare più possibilità, non essere disponibili dappertutto con quegli stratagemmi tecnologici, no, in alcuni punti. Viva le pulizie estive e fammi sapere qual è la tua pulizia estiva e digitale sul canale Telegram ma anche sui miei social, scrivimi e condividiamo un po' di pulizie, dai 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 che ci puliamo bene. E con questo chiudiamo i caffettini podcast della settimana, domani come sempre il caffettino weekend, il riepilogone della settimana con un po' di notizie varie perché si è perso qualche puntata durante questa lunga settimana molto interessante. Noi ci sentiamo con le altre notizie, oltre al riepilogone di domani, chiaramente lunedì alle ore 7.30. Fatti bravi, buon weekend e viva le pulizie!